Scarto piano perché almeno recupero la carta che ci impacchetto qualcos'altro. Bravissimo, è entusiasmante questo momento. Attenzione, 50 luoghi da visitare dopo la pensione. Ma perché? Ma perché? Ma scusami, ma perché? Ma perché? Ti amo Alvin. Ecco Susanna, cosa ne pensi di Alvin in conclusione? Io amo Paolo. Figo e coglione. Come un coglione? Ma come? Ma come? Figo e coglione. Ma fino adesso mi avete osannato, vi mandate a casa con un calcio. Figo e coglione, te l'ho regalato anche 50 modi per affrontare la pensione. Ragazzi, grazie, è stato con noi. Ha passato il Natale con noi, un amico, un grande, Alvin. Ciao. Grazie, grazie. Grazie, grazie di cuore. Grazie Paolo. Grazie a finire di far comodare da quella parte. Ciao Simone, ciao Andrea, ciao Vecca. Di sconti. Ciao bello. Ciao Susanna. Ciao Figo. Ciao Massimo. Continua la magia qua ad Appendown, un Natale normale. Dai regala questo libro, ti sicuro piacerà, se l'ha partorito torpa, un sorriso strapperà. Dai regala questo libro, piace a tutti pure a me, forse è un poco demenziale, vero e sostenibile.